Blitz della Guardia di Finanza della Compagnia di Giulianova e della Tenenza di Roseto degli Abruzzi in occasione del Carnevale estivo ad Albadriatica. Sottoposti a controllo bar, ristoranti e stabilimenti balneari e molti dei turisti presenti in occasione della manifestazione. Molteplici gli illeciti rilevati nel corso delle varie spezioni. In un noto ristorante i finanzieri hanno trovato tre giovani stranieri di cui uno minorenne impiegati senza assunzione. Immediata la segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo per il provvedimento di sospensione dell'attività e per la contestazione delle relative sanzioni amministrative. Inoltre, secondo le vigenti leggi, l'azienda dovrà assumere i lavoratori in nero per un minimo di tre mesi. Diverse le irregolarità riscontrate anche sull'emissione di scontrini fiscali in bar e ristoranti segnalate all'Agenzia delle Entrate. I controlli sono proseguiti anche di notte nei locali frequentati dai giovanissimi, anche minorenni. In un noto stabilimento balneare, militari hanno accertato la vendita e somministrazione di bevande alcoliche anche minorenni. Non la solita birra, ma anche cocktail con un tasso alcolico superiore al 40%. Per il titolare dell'esercizio, sanzioni e segnalazioni alla Prefettura di Teramo in caso di recidiva potrebbe scattare anche la sospensione dell'attività. I controlli hanno riguardato anche il contrasto all'uso e spaccio di sostanze stupefacenti. Con il fiuto del cane antidroga di Derot sono state sequestrate diverse dosi di hashish a quattro giovani assuntori. Per loro la segnalazione in Prefettura per i provvedimenti amministrativi previsti dalla legge. I controlli della Guardia di Finanza proseguiranno nel corso dell'intera estate.